E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Yo-Kai Watch Italia Oggi siamo qui su un contenuto veramente veramente assurdo Allora, eccoci qua ragazzi su... Puni Puni bentornati tra l'altro, benvenuti Ecco, ma... Oggi siamo qua, come vedete, non siamo nel nostro account solito Quindi quello di Jackpot, ma siamo su un nuovo account E voi direte, ma che account è? Cos'è? Cos'è? Oggi vi porto un contenuto top ragazzi Lo Showcase di Earth Walter Noah Eccolo qua, il rango ZZ che è esclusivo dell'Ignambo Che è uscito qualche mese fa Vedete, come ho detto prima, l'account non è nostro Perché infatti questo account appartiene a Simone Mio caro amico che sento da un sacco di tempo Dove anche ci sentiamo spesso nel gruppo di Yo-Kai Quindi veramente una persona stra stra affidabile E simpaticissima che mi ha dato l'opportunità di registrare questo video Ce ne sarà anche un altro su un altro Yo-Kai molto particolare Che è sempre esclusivo Ignambo Che vi farò vedere anche nei prossimi giorni Quindi spolliciate se volete vedere anche l'altro Yo-Kai Allora, questo Yo-Kai è molto particolare perché è il primo ZZ Inflader & Popper Cos'è l'Inflader & Popper? È quella tipologia di ZZ o comunque di Yo-Kai Che fa l'Energy Max in modo che quando voi caricate il suo Energy Max lo fate Lui scoppia un puni e scoppiandolo poi lo ingrandisce In modo che questa tipologia di Yo-Kai è molto utilizzata negli score attack E ci potete fare delle combo e dei danni assurdi Allora, questo quadro di ZZ come vedete è maxato di livello Di Energy Max addirittura di anche G E di passiva tra l'altro Quindi è full maxato Oltre a questo ci abbiamo accompagnato poi un team di i migliori booster del gioco che ci sono attualmente Ovvero Tomades Anche lui triple S Tutto maxato di passiva Mega booster da 5 secondi Lui che non mi ricordo il nome Rango Z booster Anche lui ha G Max Passiva 5 Poi vabbè il nostro mitico Noah Il nostro caro Dokezu Che in realtà non serve in questo team È solamente per il bonus dello score attack Anche se noi non lo andremo utilizzando nello score attack in questo video O meglio sì A fine video ci sarà una clip di io che gioco nello score attack con questo team E vi faccio vedere quanti punti si fanno E poi il mitico Dandori Rango Z anche lui Booster di punteggio Maxato di G Quindi questo team è full maxato Non contiamo lo ZZ da qui Full maxato Allora, ovviamente Un pollicione Un'iscrizione Campanellina Like Se volete Altri video Su questo account Di Simone Che come ho detto prima Lo ringrazio Che mi ha dato la possibilità Di fare questo contenuto Inedito Allora Visto che non possiamo andare nello score attack Perché Ho già visto nello score attack Andiamo dal nostro Caro amichetto Poliministro Che è quello qui Come sapete Da Poliministro si possono fare Delle combo Infinite Se uno ci si mette Quindi Niente Andiamo Vi faccio vedere La bellezza di Noah E anche La fortezza Si dice fortezza? Vabbè il danno Perché Fa veramente Un sacco di danno Ed è veramente Veramente Forte Allora Prima di tutto Andiamo a Caricarci Gli energy max Degli altri Locali Ok In modo da poi Creare tutto Il campo Con il nostro Caro amico Noah Allora Vediamo un po' Possiamo caricare Tutti Sostanzialmente Noi dobbiamo Fare Grandi cose La particolarità Dei infledere Un po' Per ragazzi E che si basa Tutto Su Unico Yukai Unico Yukai Che fa Danno E ne fa Anche parecchi Perché Come vedete Adesso Faremo Facceremo Faremo Un sacco Di danno Allora Poi in questo Come sapete La capacità Che appunto Vabbè La prima fase La potete buttare Giù molto Easy Dalla prossima Ora Si trasforma Potete Creare Un combo Infinita Di Energy max O comunque Di Fever Ok Siamo Caricati Nuova Adesso Quello che dobbiamo Fare È semplicemente Andare In Fever Andiamo In Fever A vedere Se Ovviamente Facendo tutto Il campo Del nostro Amico Noah Ah Non vi ho detto Le passive Vabbè Abbiamo una passiva Noah Che praticamente Quando il suo Puni Viene scoppiato C'è più danno E Poi Quella invece Di Tomades È Quella Che Quando un puni Grande viene scoppiato Ricade Quindi È ancora Meglio Da Abbinare A Questi Yokai E Fever Che ci Potete Fare Un sacco Di Ponte In Più Ovviamente Se Ce lo Avete Nelle Restrizioni È Tanto Tanta Roba Tanto Tanta Roba Adesso Diamo Per favore Riusciamo A Fare Tutto Il campo Di Noah Per favore Per favore Doco Dai Possiamo perdere un sacco di tempo Questo video non sarà bellissimo Faremo solo questo fever Lo farò vedere appunto come funziona Ok Poi vi lascio La clip A finire Dio Dio Sfora 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 Vai 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 Dai Super favore Gioco Dai Oh eccoci qua Poi c'è anche il Danduri Che ha la passiva appunto Che crea le bonus Bono Infatti Come vedete BAM No Non scopete uno Non dovrebbe essere così importante E ora Sficemente Ci Liuniamo tutti Voleva Creare Una Mega Combo Assurda Allora Qui abbiamo Poi anche lui Che ingrandisce Un po' di più i puni Quindi Perfetto Atticiamo Danduri E iniziamo la combo Io Mi vedo Che un po' per chiuso Non chi vuoi Perfetto Oh già Vai Perfetto 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 Ok Praticamente Voi dovete Mirare Quei piccoli Dove che mirare A quelli più grassi Così appunto Che Lui si continua A caricare Non sono molto bravo Con questo Perfetto 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 Spesso Però Comunque Ok Vedete i danni Senti Non salire Ragazzi Danni Tante E' bello E' quanto è forte Mi seguo Perfetto Secondo me Lo gioca è più forte Non vorrei dire Non vorrei dire Non vorrei sbaglio Ma secondo me E' il più forte Ok No Vabbè Non altro Tanto il nostro caro amico Qui muore In teoria Non muore Ok Come vedete Volendo Possiamo anche fare Un altro Fever Ok Vediamo un attimo Di fare un altro Fever Ora aspettiamo Che il nostro caro amico Qui Smetta di coprirsi La panza Così possiamo Colpirlo E come vedete Poi possiamo Continuare all'infinito Volendo La nostra combo E questo è il bello Appunto Per il quale Tutti Farmano Dal nostro Amico Poliministro Perché appena Il nostro Amico Poliministro Decide di Togliersi La quetta Perfetto Di ripreschinarsi Come vedete Bam 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 Possiamo veramente Rifare Da zero La combo Ed è fighissimo Come se si è similizzato In un altro partito Ora Ricordiamo Il nostro mitico Noah E Dovremmo Tra poco ci Moriamo Ma Tanto Usiamo Continua Facciamo un altro Fever Tanto per farvi Rivedere E E poi Stiamo A posto Ok Siamo morti Ma Non è importante Paghiamo E ricominciamo T T T T Easy E Easy Vai T 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 Ok, miriamoli qua, perché se no... Ok, si è ripristinato. Questo non so se lo facciamo, eh. Non lo so. Speriamo. Uccidiamo prima. Miriamoli i tentacoli, così almeno... dovremmo stare a posto. Perché ha pochissima vita. Lo zietto qui. Il nostro buon amico, Poliminastro. Ok. Ok, vai, l'ultimo puni. Perfetto. Bam, bam, bam. E ora, via di combo. Ok, vai. Ricacciamo. Un altro Fever. Il nostro buon amico... Ecco, Maserabold si chiama. Ok, adesso non è venuto niente. Maserabold, diga a quello. Ok. Oddio. Oddio. Ma... Grossissimo. Grossissimo questo no. Grossissimo, guardate. No, spettacolo. Bellissimo e potentissimo, veramente. Bam. Ok. Guardate qua. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo, ragazzi. L'ha tirata fuori da grana. Ok. Se killiamo anche Poliminastro, Poliminastro, ok. Puoi anche... Ok, perfetto. Schiattare, tanto non ci servi più. Perché abbiamo praticamente finito. Quindi, questo era il nostro caro amico Noah, ragazzi. Questo era il nostro mitico ZZZ. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ringrazio ancora tantissimo Simone che mi ha dato la possibilità di portare questo contenuto in esclusiva. So che in realtà questo Yagai è un po' vecchiotto perché praticamente è uscito a dicembre, però mi è venuta solamente ora l'idea di fare un nuovo video. Va bene, comunque spero vi piaccia. E niente, ora vi lascio alla clip dove faccio lo score attack e vi faccio vedere la nostra mitica bestia di Noah in azione nello score attack. Un saluto a tutti. Ciao, alla prossima. 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 Oh, duroide! Perfetto! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!